Mister Bonati, dovrebbe essere una partita di festa, c'è stata la festa prima della partita però siete rimasti molto scontenti soprattutto per l'arbitraggio e per alcuni episodi sfavorevoli che ci sono stati. Pensiamo a guardare il campionato che abbiamo fatto perché in 33 partite quest'anno sono riuscito mi faccio i complimenti da solo a non parlare quasi mai o mai degli arbitraggi. Sicuramente oggi andava scelto un arbitro diverso perché è un debuttante, vengono a fare prove qui però non si fanno le prove in una partita così importante, non si è valutato che l'Aquila sta facendo tutte le partite alla grande non si è valutato che il Delfino sta facendo tutte le partite alla grande è stato mandato un ragazzo che probabilmente ha patito lo scotto d'emozione e ci ha fatto perdere la partita perché ci ha fatto perdere la partita. Delfino Curie che quest'anno ha disputato una grande stagione, tanti consensi, tanti complimenti il binomio Bonati-Delfino continuerà anche il prossimo anno? Questo lo dovete chiedere al Presidente, io vorrei rimanere ma ho bisogno che il Presidente si renda conto come è successo parecchi anni fa in promozione dove prima di vincere il cambiato di promozione facemmo un cambiato strepitoso con un manipolo di ragazzi validi il Presidente si rende conto che quello che c'è quest'anno è qualcosa di unico quindi o ci si dichiara che vogliamo ridimensionare le cose e quindi lotteremo fino all'ultima giornata per non retrocedere oppure se si vuole provare a fare un cambiato tranquillo come quello di quest'anno bisogna migliorare ancora la squadra perché chi non si migliora si peggiora e ne abbiamo tanti di esempi nel corso degli anni di squadre che adesso fanno una promozione che sono retrocesse, che hanno molto più blasone. Fermo restando che come ho sempre detto che il Presidente sono 30 anni che fa calcio noi non possiamo ringraziarlo, per me è il decimo anno con lui e i sacrifici che ha fatto sono talmente tanti che dobbiamo trovare assolutamente un modo per non litigare perché poi siamo tutte e due persone che vogliono sempre vincere ma nella vita non si vince a caso ma si vince programmando, si vince anche purtroppo facendo tanti sacrifici e questo è un campionato che non ti perdona. Mister Epifani, in una bellissima giornata di festa per tutti e un'altra bella dimostrazione di forza da parte della sua squadra su un campo non facile. Sì, innanzitutto bisogna ringraziare la squadra ospitante, la squadra di casa che ci ha veramente fatto una cosa molto molto bella che non si vedono in tanti campi di calcio quindi li ringraziamo perché è stato bello e quindi queste sono le cose belle dello sport quindi li ringraziamo di nuovo. Per quanto riguarda la partita abbiamo vinto una partita su un campo difficile su una squadra che ha fatto un grande campionato e bisogna fare i complimenti, noi lo sapevamo e abbiamo fatto una grande partita per l'ennesima volta perché poi vale ancora di più perché venire due settimane di feste poteva sembrare che potevamo mollare un pochettino invece la squadra sta concentrata arriviamo alla partita molto bene e questo è di motivo d'orgoglio ancora di più perché allena veramente dei ragazzi fantastici. Si sta cominciando anche a pianificare il futuro che sarà l'insecchiettivo dell'Aquila Ma adesso finiamo il campionato poi con calma ci sediamo e vediamo un pochettino sicuramente questa è una squadra che ha grandissimi valori è una squadra che è stata costruita a lungo raggio quindi quando ci sederemo con il direttore con la società vediamo un pochettino quello da fare però adesso ci godiamo la festa perché abbiamo fatto una cavalcata incredibile e ce la vogliamo godere fino alla fine.